Velocemente Presidente, voteremo con voto contrario rispetto a questo emendamento, anche se intendo spiegare perché il MoVimento 5 Stelle vota contrario. Certamente il doppio binario tra carta e digitale noi non lo intendiamo assolutamente sopprimere, soprattutto magari per un primo momento, però si tratta di una disposizione che proprio in virtù delle previsioni future che uno mira a raggiungere e quindi che sia un percorso nel futuro digitalizzato, questo potrebbe essere un emendamento tecnico da presentare eventualmente al regolamento sul bilancio partecipativo e non nello statuto. Pertanto il nostro voto Presidente è contrario. Grazie.